Ripartiamo con un altro sdraiato, con un'altra intervistona, caro popolo interista, abbiamo niente po' di meno che Andrea Bosi, ho bentrovato, eccolo qua. Sono io, ciao a tutti, ciao. Sono Andrea, sono Andrea Bosi, si è preoccupato? Ma diciamo che forse il divano del dentista è più comodo, nel senso, ma non per altro, il divano è comodissimo, anzi ringraziamo. Però hai paura del dentista. Ma pure del dentista, perché con le sue denagli. Ti faremo 6-7 mila domande, niente di che, insomma, entriamo proprio nel privato della tua vita e tu ci dovrai dire sempre e solo la verità. Ti mettiamo tipo interrogatori oppure la luce tra poco. Faccio così anche. Andrea Bosi, soprannome? Soprannome dipende dall'età, nel senso, da bambino ho avuto la fortuna di crescere in un cortile con tantissimi bambini, io però ero più piccolino e quindi di conseguenza è diventato Andreino, no? Il soprannome, ero l'Andreino, quello che andava a prendere i palloni sotto le macchine, ero sempre più disperato, eccetera. Stiamo parlando del paleolitico. Stiamo parlando del paleolitico, degli anni 70 a Milano. E quindi quanti anni hai? Io sono del 74. 74? Non portavi bene, è complicato. Grazie. No, bene, bene. Anche se tante volte in televisione sembrò più vecchio, in realtà dal vivo sembrò più giovane, credetemi. Semmi pure un bel uomo in televisione. Aspetta, aspetta, poi dopo è diventato Boa, il soprannome. Ah, Boa. Da Bosio, Andrea Boa. Ah, pensavo fosse Boateng Boa, invece. No, no, lui ha scritto tutto con la B maiuscola, O e A minuscola, io invece con la B maiuscola, O minuscola, A maiuscola, perché A di Andrea. Professione? Bah, insomma, diciamo giornalista, dai. No, perché? Scritto all'albo dal 2000. Che lavoro volevi fare da bambino? Beh, devo dire che era un lavoro del calcio. Il calcio è sempre stata la mia passione, quindi calciatore, allenatore, giornalista. Alla fine li ho fatti un po' tutti, ho fatto anche il direttore sportivo, quindi di fatto ho fatto tutte le varie fasi del mondo del calcio, tutti i livelli del mondo del calcio, adesso mi diverto qui a Telenova. E di queste cose quelle che ti è piaciuto di più, allenatore, direttore sportivo, calciatore, giornalista? Ma devo dire che ognuno ha la sua bellezza, bisogna saper poi apprezzare le cose che si fanno in quel momento, devo dire che tutti questi lavori mi sono piaciuti, devo dire la verità. Qui dobbiamo fare l'elenco, eh? Allora, il tuo punto debole, cosa non ti piace di te, che possiamo fare? Dobbiamo correre, però. Fisicamente o... Anche? Anche fisicamente, va bene. No, intelletto, attualmente. Ma diciamo che sono un testone, diciamo che dovrei essere tante volte un po' più malleabile nelle cose, invece sono un segno di fuoco, sono della rieta e quindi di conseguenza abbiamo un po' questa grinta, questo carattere. Perché credi mi sei inizio di a Cali? Poco, però devo dire che quando parlano della rieta mi ci ritrovo spesso, devo dire anche se non ci credo molto. Ti girano intorno e prima o poi... Eh no, no, ma ci prendono, ci prendono. Il tuo pregio, anche qui l'elenco, eh? Assolutamente la lealtà e l'onestà, non ho mai tradito nessuno e non lo farò mai. Cioè quando mi espongo nei confronti di una persona è perché lo penso veramente e non ho mai tradito niente e nessuno. Il giorno più bello della tua vita, lo dico sempre, a parte questo, lo rispondono tutti con questo perché viene intervistato, però a parte questo? Beh, insomma nella vita privata ce ne sono tanti di giorni belli, potrei citare tanti momenti, eccetera. Qua però diciamo che viene fuori anche un po' l'aspetto pubblico, mi piace parlare di Inter e quindi dico 16 maggio 82 quando il Milan è retrocesso in Serie B. Mi aspettavo questo, mi aspettavo sull'Inter. Napoli-Genova, qualcuno se lo ricorda, 16 maggio 1982, quindi direi che potevo citare anche Istanbul, potevo citare tante cose. E' quello più brutto? Ma è quello più brutto, diciamo una delle tante vittorie, ahimè, del Milan e quindi hanno contribuito queste vittorie a farmi passare dei brutti momenti. Non ce lo dirai qual è il più brutto dell'Inter invece, vero? Il più brutto dell'Inter? Ma, il più brutto dell'Inter potrebbe essere stato il 5 maggio, insomma, voglio dire, dopo tanti anni di attesa. Dov'era il 5 maggio? Quando l'Inter ha preso lo scudetto all'ultima giornata per chi non lo sapesse, però è giusto. Ah, perché c'è gente che non sa cosa è successo in quel 5 maggio. È giusto per il Napoleone, potrebbe essere, certo, quello è che è vero, però diciamo che ci sono stati vari momenti brutti. Doveri? Ero in studio a fare la telecronaca per un'altra... Hai dormito poi? No, anche perché poi l'allora mio direttore con una sottile perfidia mi aveva anche mandato all'aeroporto ad aspettare i giocatori che rientravano, per poi costruirmi ancora a rientrare in studio a mezzanotte, eccetera, è stata una giornata veramente brutta. Torniamo agli anni 30, il tuo primo ricordo da piccolo? Il primo ricordo da piccolo è sicuramente un giorno a casa dei miei nonni, non so perché ho questo flash a casa dei miei nonni, i miei amati nonni che purtroppo non ci sono più, insieme ai miei genitori, è una classica domenica in famiglia con i genitori e con i nonni, e mi ricordo alcuni flash di quella giornata, avrò avuto penso tre anni, sono stato il 77, il 78 massimo e mi ricordo quei momenti. Se rinasci cosa fai? Beh, diciamo gli anni massimi a quello che sono adesso, cercando di evitare, però chiaramente l'esperienza non lo si può avere, perché se uno rinasce non ho avuto l'esperienza di prima, e quindi eviterei di fare degli errori, soprattutto uno molto grande che ho fatto. Va bene, dai non entriamo nei particolari, va bene, ti lascio in pace, adesso entriamo invece in un argomento molto spinoso, materia preferita ai tempi della scuola? Assolutamente storie, è sempre stata la mia materia preferita. Guarda che carino, guarda lì, che bello, sembra un po' pollo. Hai disegnato tu? No, ma io sempre disegnerai peggio, sono veramente negato nel disegno. La casetta col cammino, il fumo, il sole, la storia sicuramente. Una cosa che ti rende felice? Vedere la gente contenta, ho una certa predisposizione verso gli altri, e quindi quando sono attorno a gente felice, sono felice anch'io, e quindi mi piace vivere in serenità. Pensavo alla sconfitta del Milan, però. Beh, ma quella me la sono già giocata prima, dopo mi sono messo a ripetitivo. Allora, ti salutano tutti i tifosi del Milan, naturalmente. Il contraccambio. Il tuo animale preferito? Il cane. Il cane. Hai avuto cani? Sempre, sempre. Tutta la mia vita è stata costellata dalla presenza di cani, e non potrei vivere senza cani, che considero veramente... Il mio amico dell'uomo. Sì, e tante volte non lo meritiamo, perché è capace veramente di slanci, di amore, che purtroppo forse noi abbiamo un po' accantonati, e dovremmo recuperare certe sensazioni, certe situazioni. Il cane sicuramente. Il tuo artista preferito? Ma direi, allora, due cose. Allora, parlare di musica. Come musica sicuramente Lucio Dalla, che ha accompagnato tutta la mia vita, quindi il mio cantante in assoluto preferito. E come attore direi Gian Maria Volontè. Gian Maria Volontè è sicuramente l'attore che mi ha dato più emozioni di tutti. Due grandi artisti che purtroppo non ci sono più. Va bene, l'ultimo libro che hai letto. Ma guarda, io sono appassionato, come dicevo prima, di storia e molto anche di politica. E caso vuole, l'ultimo libro è stato Lettere dal carcere di Eunecker, per quanto riguarda appunto uno statista della vecchia Germania Est, o per chi non lo sa, o per chi non se lo ricordasse. E ho voluto vedere alcune sfumature. Quanti libri leggi in media all'anno? Al mese, al giorno? No, non c'è una statistica al mese, no. Ti posso dire all'anno, tranquillamente, una trentina li leggo. Trenta, quaranta all'anno li leggo. Sai cantare? No, no, questa domanda no. Adesso vi faccio cantare Futura di Lucio Dalla. Eh, Futura potrei, insomma. Allora, aspetta, intanto, canzone preferita? Beh, qualsiasi di Lucio Dalla va bene. Diciamo che forse il CD preferito, anzi la musica set all'epoca preferita, è quella del 1980, quella dove si vede il berrettino di Dalla. Secondo me ha azzeccato tutti i singoli, non ha sbagliato neanche mezzo. e quindi potrei citare tutte quelle canzoni, ma posso citare chiaramente anche altre. Canta! Ah, devo cantare? Ma sì, un tre, quattro secondi, non accendo di una canzone. Balla, balla, ballerino, tutta la notte al mattino. Non fermare? No, no, fermati, basta, 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 il ballerino va avanti, io... No, però dai, ringraziamo Bosio che si è immolato in questa domanda che è una tra le più brutte da fare. Va bene, allora, che macchina hai? Che la devi spostare, tra l'altro. Mi hanno detto che avranno caricata nel mentre, dopo che ho detto il 16 maggio dell'82, ma è una Golf, è una Golf, Volkswagen. No, no, è una Golf del 2017. La prima cosa che farai domattina, per chi ci seguiste in diretta, la gazzetta. Come tutte le mattine, la prima cosa che faccio, non la dico, la seconda è la doccia. E quindi è nel senso che, per la mia sorella letto non riesco a uscire di casa se non faccio la doccia. Quella dopo, la colazione dopo. Mario Montagna. Bellissimi entrambi. Ho imparato negli anni a apprezzare la montagna, cosa che da giovane ho sottovalutato. Ma devo dire che sia la montagna d'estate che il mare d'inverno hanno un fascino molto particolare. E quindi ti dico, l'importante è trovarsi bene con se stesso e con le persone che attorno. Poi sia mare che montagna, van benissimo entrambi. Adesso devi cantarci il mare d'inverno. No, pure, no, quella è più difficile. Quella è più difficile, è complicata. Il poster che avevi in cameretta. Tutto Inter, sempre Inter. Non è che avevi Gloria Guida, i Duis Fenecchi, queste attrici. No, no, no. E che gli piacciono i film. Le guardavo, però come poster in cameretta Inter sempre. Guarda lì. Ah, te l'abbiamo staccato nella cameretta. Quello è il poster con l'Inter di Bersellini. Lo vedete lì in mezzo. Cos'era? Uno, due, tre. Il quinto era Eugenio Bersellini. Eh sì, sì. E insomma l'Inter. È stata la mia prima Inter questa, in effetti. Perché essendo nel 74 ho iniziato a seguire l'Inter, dall'Inter di Beccalossi, di Altobelli, di Bersellini. E vi dicendo... Ti piace? Cosa cambieresti del tuo corpo? Questi sono le cattivelle. Sì, mi va bene così, ecco, toglierei le manigliette dell'amore. Qualcosì la toglierei. Ah beh sì, è facile quello. Ti fai due o tre anni di... Guarda, vuol dire che dimagriscono, dimagrisci bene davanti, poi faccio palestra. Però le manigliette fanno un po' più, hanno un po' più di difficoltà nell'abbandonarci, ahimè. E quindi insomma... No, bisogna stare sempre sul divano. E poi c'è una mia carissimissimissimissimissimissimissima amica, ma proprio un'amica molto speciale, che ha le mani piccole. C'è le mani, è vero, un pochino sì. Quindi sono un po' le mani piccolissime. Ma è ancora grande, ancora grande, ancora grande. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti? Tu dici l'attaccante, per l'Inter, che c'è bisogno in questo momento. Ma no, ma io poi sono uno che ha uno stile di vita abbastanza tranquillo, quindi non ho bisogno di grandi cifre. Sicuramente se dovessi vincere 10 milioni di euro, non per cadere nella ritorica e nella banalità, ma veramente aiuterei un po' di persone che ne hanno bisogno. Grazie, molto gentile. Non rindone, potrebbe a sua volta. Però non saprei perché non ho sogni particolari legati ai soldi, legati al materialismo. Gli ho sogni miei, privati. Non sopporti il materialismo? Non mi piace. Non ti piace? Non mi piace il materialismo, il capitalismo. Però i soldi fanno la felicità, i soldi? Assolutamente no. Se una persona deve essere felice in virtù dei soldi, vuol dire che secondo me ha capito poco della vita, ma molto poco. E il problema è che queste persone, in modo di vedere, inquinano l'acqua che dobbiamo bere tutti. E allora quindi essere troppo materialisti, impostare l'esistenza su avere la bella macchina, avere la bella di qui, la casa, i bei vestiti, eccetera, distoglie la gente dai veri pensieri, da quello che veramente è la vita, che non c'entra niente col materialismo. Tra poco entriamo nei dettagli, anche scabrosi, va bene? Uh, attenzione! Pubblicità. Ah, tra poco. Ripartiamo con lo sdraiato di oggi, il nostro Andrea Bosio. Tutto bene? Preoccupato? Devo dire che sei bravo come artistista, visto che abbiamo citato identità di inizio puntante. Adesso faccio il cattivo, perché qui la domanda è una figura di che hai fatto. Vai al volo? Ci sei? Opla! Questa, per esempio, oppure questa qua, ma ce ne sarebbero talmente tante, voglio dire che... No, una, che ne so, hai salutato un tizio che in realtà non era, che ne so, ma... Ma sì, le classiche gaff, magari, sì, ma sinceramente adesso così su due piedi non me ne viene in mente ora. Poi quando faremo la trasmissione notturna, invece, va bene. Ai, 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 qua sono curioso. Cartone animato preferito? Cartone animato preferito, direi, di base Lupin, che mi è sempre piaciuto, soprattutto le prime serie. Ladro. Sì, ladro, ma è simpatico. Ladro gentiluomo. Ladro, ma soprattutto, ecco, questa è proprio la prima serie che è stata decisamente la più bella di Lupin. Jigen, no? Jigen, Gammon, c'era Fujiko, anziché Margot. E Lupin, e devo dire che questa è stata la serie, secondo me, più bella. E quella anche un po' più, un po' più pulp, un po' più dove si vedevano anche scene che poi magari nelle serie dopo hanno cercato di evitare, anche per uno politically correct. Mentre come fumetto, Asterix. Asterix. Se non l'avete inquadrato. No, Asterix qual è? Asterix è il primo. È il primo, ah, l'altro, Obelix, che è quello più grosso. C'è il Cicciottello. Il Cicciottello, dietro la schiena, il cattino Eidefix, e poi vedete anche Panoramix, che è il druido. Ci sono tutti uguali, XXX. Bosix. Bosix, esatto. E quindi devo dire che mi ha sempre affascinato la storia di questo piccolo villaggio che resisteva dinanzi agli assalti, agli imperialisti che cercavano di fagocitare questa zona della Gallia. E questo piccolo villaggio che riusciva a resistere mi ha sempre affascinato. E devo dire che poi l'ho tramutato anche in logiche, se vogliamo, anche un po' politiche, se vogliamo, anche un po' mie personali di vita, nella vita poi da grande. C'è quindi questa resistenza contro gli arroganti, i prepotenti, i cattivi, gli imperialisti, no? Se vogliamo, ad un certo punto di vista... Non guardare più sti cartoni che ti ha condizionato la vita. Ha condizionato la vita. Allora, prima abbiamo visto Gigane, quello con la sigaretta. Fumatore? Fino al 2008. E fumavo, lo ammetto tristemente, due pacchetti di sigarette al giorno. Poi una mattina, era il 12 settembre del 2008, mi sono alzato e ho detto, ho fatto la solita doccia, ho fatto colazione, poi verso le 8 e mezzo ho fumato un quarto, quello che era, ho fumato l'ultima sigaretta, l'ho spenta e ho giurato a me stesso e alle mie figlie, a mia figlia, perché all'epoca ne avevo una sola, che quella sarebbe stata l'ultima. E così è stata, non ho più fumato in vita mia, è stata durissima, ma lo consiglio veramente a tutti, perché il fumo è veramente subdolo, perché ti sembra, tanti mi dicono, ma io non smetto perché mi rilassa, invece no ragazzi, voi dovete capire che fumare, cioè aver la voglia di fumare, non è voglia di avere questo senso di rilassatezza, eccetera, ma è semplicemente la mancanza della nicotina, è assinenza. Quindi tu fumando ti togli quella astinenza che pian pianino sta venendo fuori, no? In quel momento, e quindi smettete, smettete, smettete. A me hai fatto una canna a questo punto? No, ti dico la verità, da ragazzo è capitato, da ragazzo molto giovane. Hai smesso molto prima però. Beh, ma quello è stato, guarda, è stato un annetto in cui ho provato quelle 3-4 volte così, mi ricordo su Allago quando andavo in vacanza così e con degli amici abbiamo provato, ma niente di... Molto interessante. Non mi è mai piaciuto sinceramente, come anche ti dico la verità, magari anticipo qualche domanda, sono praticamente astemio, bevo pochissimo e sono contro ogni tipo ovviamente di droga. Eh, beh, 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 basta, 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 poi ti spiego il perché allora. Hai mai rubato qualche partita forse sì? No, sono l'interista quindi, è proprio nel nostro DNA, noi subiamo. Ma chi è che ruba, scusa, in questi casi? Eh, ma guarda che sei, guarda che sei forte, c'è già gli altri... No, lo so, mettiamo tutti... Già abbiamo rigato la macchina agli altri, adesso anche pure gli altri devono dire... Beh, comunque diciamo che loro due, gli amichetti, si intendono. Gli amichetti, non facciamo nomi e cognome. Di cosa hai paura? Ho paura dell'ignoranza, perché l'ignoranza è tremenda, poi l'ignoranza mista a cattiveria crea delle volte una miscela veramente insopportabile e quindi auguro sempre che la gente studi sempre di più, si informi sempre di più, capisca, cerchi di capire attraverso canali ovviamente obiettivi il perché di tante situazioni e non andare avanti per inerzia, perché la vita è una e va assaporata nella sua interezza, secondo me. Il luogo che ti rappresenta a Piano Gentile, immagino, la Pinettina, la Pinettina. Sì, quello è il luogo assolutamente che ho nel cuore, l'ho vissuto anche tanto. Come città, come posto è Milano, Milano è quella che considero sicuramente la... Ma tu sei milanese. Io sono milanese, è nato e cresciuto a Milano, quasi tutta la mia famiglia è di origine milanese, te l'ho tolto una piccola, una parte che arriva dal Lago Maggiore, un altro lato che arriva dalla Liguria, parlo dei bisnonni e dei nonni e dei bisnonni, e un piccolo lato dal Veneto che arriva, il resto sono tutti di Milano e quindi sono tutti che hanno vissuto a Milano fondamentalmente, quindi diciamo che... Un po' come me, un po' come te, Luciano, devo dire che questa tua milanesità che... Cento per cento, al cento per cento. Al cento per cento. Allora, tu mi hai detto che non bevi, per cui ti devo chiedere il drink preferito, il drink. Allora, sono quasi un premio... La birretta, tu sei la birretta secondo me. Sì, nel senso, ma più che la birretta mi piace bere ogni tanto magari un bel bicchiere di vino rosso, non mi piace il vino bianco, quindi un bel bicchiere di vino rosso a tavola, lo bevo volentieri, ma non... Mi piace berlo, ma deve essere proprio poco, perché mi è capitato ovviamente da ragazzo, sono ipocrita a dire che non mi è capitato di eccedere magari qualche sera col bere, eccetera, ma... Moderato, moderato. Anche perché mi dà fastidio non essere in me stesso, cioè io dico anche questi ragazzi che passano le serate a bere come dei disperati, tanti poi devono essere anche ricoverati, eccetera, ma... Andate a divertirmi, cioè non sentite neanche più voi stessi, cioè vi perdete il bello veramente della serata, quindi è un peccato rovinare dei bei momenti invece da condividere con gli altri. Questa è... Sai cucinare? Un piatto di pasta col tonno, quando apro la scatoletta... Ah, tipo pozzetto. Tipo pozzetto, tipo pozzetto. Fortunatamente ho persone vicino a me che sanno cucinare bene, e si vede anche, quindi voglio dire... Vabbè, cosa ce l'hai detto? Il tuo piatto preferito? Allora, piatto preferito direi tutti, perché mangio veramente di tutto, non ho nessun tipo di vincolo. Cado proprio nel più banale pizza, cioè la pizza in compagnia così è sempre una cosa bella. Quale, quale, quale? Margherita napoletana, marinara. Ma diciamo che a me piace molto il salame piccante e magari anche un bel salame piccante zola, voglio dire, è una bella accoppiata, leggera soprattutto. Leggera, sì, la cozziamo di sera soprattutto. Esatto, ma poi io digerisco anche tutto, quindi non ho problemi. Quindi è un invito, cioè se mi vuoi invitare a casa non hai problemi. Ma se offri tu volentieri ti invito, certo, certo. E metto la casa. Ah, certo, quello che costa la luce. Un piatto che ti disgusta invece, caro Andrea Bosio. Magni tutto, puri tavoli, puri divanti. Guarda, se proprio mi ricordo, una volta che da ragazzino avevo fatto una specie di indigestione con i, sai, i nervetti, no? Come no? Ecco, e da quella volta lì non li ho più mangiati perché è solo il ricordo di questa cosa, ma proprio per il resto veramente di tutto, carne, pesce, primi, tutto, 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 tutto. La merendina chiamavi da piccolo. Non ero tanto di merendine, ma ero più di biscotti. 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 A me piacevano i più biscotti, adoravo il classico latte che mia nonna chiamava il laccino con i biscotti, mettevo lì. Ma tu facevi la zuppetta. Mi facevo la zuppetta, assolutamente, e proprio doveva essere un momento in cui dovevo stare da solo, non mi piaceva avere neanche seccatori, tra virgolette, attore. Mi piaceva, mettevo lì, con il mio giornaletto, mi mangiavo i miei biscotti con latte, dovevo isolarmi un pochettino dal mondo, era un momento che mi piaceva molto. Di che è il numero di telefono della persona più famosa sul tuo cellulare? Cellulare, poi. Luciano Rindoni. Grazie, grazie. Neanche da dire. Luciano Rindoni. È Luciano Rindoni. Insomma. Che conoscenza. Voi pensate come sono messo. È la persona più importante che hai conosciuto, la più famosa? Anzi, prima la più importante. Ma tra quelle pubbliche. Sì, certo. Tra le persone pubbliche. Anche private, sicuramente. Ma a livello calcistico, vabbè, è chiaro che la conoscenza è anche, in parte, la frequentazione di uomini che hanno caratterizzato la storia dell'Inter mi ha sempre molto riempito. Quindi è chiaro che quando parlo di Giacinto Facchetti, quando parlo di Massimo Morati, quando parlo di Peppino Prisco, parlo di persone che a livello... Cioè, per quello che il mio lavoro anche, che ho svolto con... che è la mia passione, poi alla fine, sull'Inter dal 2000 ad oggi, quindi sono 22 anni, diciamo che sono state le persone che ho frequentato più volentieri, ho conosciuto più volentieri. Anche perché proprio con modi diversi, ma trasudavano quell'interismo che veramente andrebbe delle volte anche ripreso. Soprattutto poi è chiaro che, essendo un interista anche non particolarmente simpatizzante per usare un eufemismo nei confronti del Milan, è chiaro che per me Peppino Prisco rimane unico e inimitabile a raggiungere. Ci ricordi qualche perla di Peppino Prisco, qualche aforismo, qualche frase? Quando stringo la mano a un milanista mi pulisco le mani e quando la stringono a un juventino mi conto le dita. E quindi questa direi che racchiude il pensiero prischiano. Ma perché l'Inter? Perché interista? Cosa ti è capitato? Cos'è successo quel giorno, quell'illuminazione che ti ha fatto tifare? Allora, mio padre e mia madre sono interisti, un mio caro zio era interista, anche il mio migliore amico del cortile di quegli anni era interista. Sono andato nel 79, se non ricordo male, per la prima volta ho messo piede da Piano Gentile con mio papà che conosceva un amico di Aldo Serena. Allora ci siamo trovati insieme giù in un bar a Milano e ci ha accompagnato in macchina solo da Piano Gentile. Perché? Perché io volevo assolutamente conoscere Varisto Beccalossi. E poi te lo sei ritrovato qua. E non solo qui, ma da vent'anni che praticamente lavoriamo insieme. E devo dire che quella scena, io attaccato, allora c'era un piccolo recinto lì a da Piano, io ero lì attaccato che guardavo questi miei idoli, è arrivato Varisto, perché Aldo Serena aveva detto che ero lì per lui, mi è arrivato, mi ha messo la mano in testa, mi ha detto ciao Andrea, ecco lì mi sono sciolto e quindi... Adesso cosa ti dice? Adesso mi dice cose che sono irripetibili. Però lui la sa... Ce l'abbiamo, eccolo lì Varisto, non in studio, ce l'abbiamo, eccolo qui il Beccalossi. E queste sono le immagini. Tra l'altro io nel 79 ho iniziato anche a giocare a calcio ed ero un centrocampista, ed ero, giocavo onuro 10 e in quegli anni è chiaro che ero un po' l'idolo. A cena col milanista o con lo juventino? Con il rindone. Devi rispondere però. Se vuoi rispondere, se no per carità. So che tanti non la capiranno, soprattutto quelli non di Milano, ma se devono giocare per lo scudetto Milan e Juve, non dico che tifo per qualcuno che è tifare una cosa che non va bene, ma mi auguro che perda il Milan. Perché comunque da buon interista milanese, per me il Milan è l'ultimo in assoluto che deve vincere. Cioè proprio è cento scudette la Juve ma mai uno al Milan. Restate con noi. Altre sette ore con... No, no, tra poco ti liberiamo, caro. La gente mi immagino che sta già preparando appunto per registrare tutto, ci sarà tutto in Italia. Poi Marzullo, non in idea, ci ha già chiamato, ci vuole portare entrambe lì. È anche un po' geloso. Qual è la cosa più preziosa che hai perso? Te lo ho detto che ogni tanto noi facciamo i burloni. Mamma mia, ragazzi, ma tu non puoi passare da certe domande a PUM la cosa più preziosa che hai perso. Ti giro intorno così ti metto ancora più ansia, dai. Allora, posso dire, una volta al mare, allora mia nonna Emilia, morta nel 1990, la mia carissima nonna, avevo preso la sua vera, vera di matrimonio, la sua fede, me l'ero messa al dito e l'avevo tenuta io per un po' di tempo e purtroppo tre anni dopo, mentre facevo un bagno al mare, da stupido l'ho tenuta al dito, poi col sale, con l'acqua, eccetera, e l'ho persa nel mare. Che la cosa è anche, se vogliamo, ho cercato di autoconvincermi che fosse anche una cosa romantica, nel senso che lasciare la fede di mia nonna al mare è anche una cosa bella e tutto. Però dall'altra lì ci ho sofferto, sembra una cosa così, però in realtà è molto fastidio. No, no, poi ci sono cose che segnano assolutamente. La persona più preziosa invece che hai perso, Andrea? La persona più preziosa che ho perso potrei dirti i miei nonni, i miei nonni sicuramente, io ho avuto due nonne meravigliose, con una che è questa appunto di cui ho parlato prima, la nonna Emilia, con la quale sono cresciuto e quindi ho vissuto proprio gli anni dell'infanzia con lei, perché? Perché l'altra nonna, che ahimè è rimasta vedova veramente molto giovane, ha 39 anni, ha avuto l'onere di crescere due figlie, una era mia mamma e quindi ha dovuto lavorare, una donna che mi ha veramente fatto da faro per i valori che mi ha trasmesso, una donna di una grinta, di una determinazione, di una serietà, non ha mai voluto risposarsi e ha impostato la sua vita proprio sul lavoro, sulla serietà e quindi queste due nonne, per motivazioni diverse, per modi diversi, però sono le due persone che assolutamente ho perso e che mi piacerebbe sempre poter rivedere e riparlarci insieme. Cosa ti manca degli anni 80? Visti poi da un bambino, visto che tu sei del 77, mi hai detto? 74. 74, scusami, sei del 74, quindi diciamo che già negli anni 80 ho 10 anni. 80, io ho 15 anni, 16 anni, ho fatto comunque la mia tarda infanzia e adolescenza un po' negli anni 80 e un po' quella spenseratezza che effettivamente c'era in quegli anni, tanti stress che ci sono oggi non c'erano e poi tutto sommato io penso che probabilmente in tutte le fasce d'età di quegli anni si viveva meglio, ma in generale c'era proprio forse meno stress, non c'erano i telefonini, c'erano tante cose, certo c'erano anche degli altri problemi, perché non è che era il mondo perfetto, non era il paese del Ben Godi, ovviamente, però c'era, e poi c'era anche quella, erano gli ultimi anni un po' della partecipazione politica, mi ricordo dopo chiaramente ho visto poi con più calma e più attenzione anche per esempio i funerali di Berlinguerne all'84, mi ricordo momenti di alta partecipazione politica indipendentemente poi dallo schieramento e da lì in poi diciamo che dopo, ecco, io nel 92 compio 18 anni, nel 92 è un anno, il 92 è veramente in cui ci sono stati dei grandissimi stravolgimenti, sia a livello nazionale, perché insomma scoppia tangentopoli e quindi insomma tutto quello che ne consegue, ma anche a livello mondiale, perché ci sono gli echi della caduta del muro di Berlino, la dissoluzione dell'ex Unione Sovietica, quindi un momento veramente di grande cambiamento e da lì in poi purtroppo si è passati da quella partecipazione politica attiva al one man show, a comunque l'uomo politico che crea il partito. Ma hai cambiato idee nel corso della tua vita? Assolutamente sì, assolutamente sì. E quando? Quando c'è stato questo passaggio? No, lì era all'inizio, non gli albori, io all'epoca ero il classico diciottenne a cui mancavano ancora gli strumenti base, anche a livello culturale eccetera, poi con gli studi di sociologia, con la mia passione per la politica e per la storia, con l'attenzione che ho dato su alcuni testi, è chiaro che nel corso degli anni la visione è cambiata e attualmente a me la politica piace moltissimo e mi dispiace che ormai nella stragrande maggioranza del popolo italiano ci sia questa rassegnazione che secondo me non va bene, non porta a nessuna parte. Ma il primo voto politico che hai dato? Beh l'ho dato per un po'... Tan 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 tan, ce l'abbiamo, tan 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 tan... L'ho dato, ecco, torno a ripetere quel discorso di prima, cioè eravamo nel 92 e quindi un ragazzino di 18 anni è chiaro che viene affascinato dal nuovo che avanza, dal partito che si mette... Quello del 94? Poi? No, assolutamente, perché non era ancora partito, quello del 94 e non l'ho mai votato quello del 94. Diciamo che... Perché era Presidente del Milano! Oltretutto, perché questa aggravanza è veramente pesantissima e no, diciamo che nel 92 e allora... La stai prendendo larghissima, eh, va bene, dai! Sì, perché ho quasi vergogna anche a dirlo, considerando quello che voto adesso, veramente... Va bene, diciamo... Però diciamo che era un periodo molto diverso rispetto a quello attuale e oltretutto quel partito, che molti di voi hanno già capito, era un partito, no, che c'è ancora, ma che era completamente diverso rispetto a quello di adesso, con anche delle linee molto diverse, anche più popolari, ma non l'ho più votato e poi sono andato dall'altra parte della barricata. Va bene, va bene, allora mi sono perso le domande, ah sì, mamma mia! Ahia! Dopo tutto quello che mi hai detto hai paura a farmi questa? No, questo è semplice, cosa ti piace fare nel tempo libero se rimani a casa? Tu ne sorridi perché già conosci, no, certe vie, no, però a parte, non perché lui ne è protagonista, voglio dire, ci mancherebbe, però voglio dire, non è per quello, ha il senso, tu conosci le mie passioni, a parte questo, no, mi piace... Il giardinaggio! Mi piace leggere, mi piace guardare Telenova, mi piace... Prima mi hai già risposto, però te la faccio lo stesso, hai mai tradito un amico, una fidanzata, un... no... E quando è andato... No, se mi dici no ti cambia la domanda, ti hanno mai tradito fidanzate, amici? Guarda, amici sì... Tanto, quello è sempre l'ultimo a saperlo! Allora, amici sì mi hanno tradito, mentre il fidanzato che io sappia no, però è chiaramente il marito è sempre l'ultimo, il fidanzato è sempre l'ultimo a saperlo, quindi... Però non ho notizie in questo senso e quindi non... Comunque ti ho chiesto scusa, è successo... Prosegua, Corrindole! Questa io ogni tanto mi guardo perché... Gli alieni esistono? No! Esistono gli alieni? No! Come no? Secondo me no! Perché? Secondo me no! Ma scusi, 200 miliardi di stelle come il nostro Sole, più grandi, più... Sì, ma non... Galassie! Non penso che esistano nel... come ce l'hanno romanzati, ecco... Poi magari ci possono essere altre forme di vita, ci mancherebbe, non siamo... Cioè non è che vengono con le navicelle qua, dici questo? Sì, esatto, penso che esistano sì, probabilmente esisteranno altre forme di vita, però non come ce lo stanno... Il luogo della tua infanzia? È Milano, assolutamente Milano e poi... Le vacanze dove le facevi? Le vacanze allora finivano le scuole e mi trasferivo praticamente nei mesi estivi sul Lago Maggiore dove avevamo una seconda casa e dove ci sono anche miei parenti e tanti amici ancora rimasti lì e poi durante queste vacanze capitavano sempre quelle due settimane al mare o da qualche parte. Cosa bisogna avere nella vita? Bisogna avere... torno a ripetere... bisogna avere quella voglia di conoscere, di sapere, di cercare di... e poi soprattutto una cosa che amo molto, l'empatia, cioè bisogna cercare di capire un po' anche tante volte quello che provano gli altri in determinate situazioni e non essere dei muli che vanno avanti con i paraocchi e... Cosa non bisogna avere nella vita? Proprio il contrario di questo, l'arroganza, la prepotenza, il fatto di essere... di pensare di essere migliori degli altri perché voglio dire... ecco soprattutto ecco non bisogna essere razzisti, non bisogna essere sciovinisti, non bisogna essere... non considerarsi mai superiori ad un altro gruppo. Dopodiché nello stesso gruppo ci sono persone più intelligenti, più brave, più preparate, ci mancherebbe altro, ma a prescindere quando sento ragionamenti di stampo appunto razzista e non solo, dove comunque si evince una certa predisposizione nel pensarsi migliore di un altro, mi vengono la mia pelle d'olio. Cosa ti ha insegnato il periodo del Covid? Che forse, quello che ho sempre detto, è probabilmente da questo punto di vista una cosa giusta, che bisogna un attimino ritornare a godere anche delle piccole cose, dei piccoli momenti e non affidarsi a un benessere materiale, strano alla propria coscienza, alla propria natura, perché quando poi queste cose possono venire meno non dobbiamo vivere male, perché appunto la vita è fatta di ben altre cose. Cosa farai quando non lavorerai più? Ah perché sto lavorando? Vabbè che ne favo. Non è un divertimento, però è un lavoro. No, no, assolutamente il lavoro è una cosa che dà dignità all'uomo e bisogna sempre adottare sempre politiche sempre più specifiche per far sì che l'esercito di disoccupati, di persone che non riescono a trovare un lavoro o che sono sottopagate, finisca, perché è una cosa veramente insopportabile. Però torno a ripetere, la vita essendo fatta di tante belle cose non mi annoierò mai e quindi troverò sempre qualcosa di bello da fare, quindi non mi spaventa l'idea di quando un domani non avrò più lavoro. Non domani. Magari ci sta dopo questa intervista, qui magari non mi vedrete più e quindi... No, però posso subito notare perché domani c'è il derby qua a Telenove e quindi c'è alla fine. Come ti immagini fra 20 anni? Vorrei incontrarti fra 20... No, quella è da 100 anni. O sennò telefonami tra 20 anni di Lucio D'Arna. Eh sì, sì. È un'altra canzone. Vuoi cantarla di nuovo? No, direi che ho già dato su questo. 20 anni, avrei 68 anni e mi auguro di vedermi con una persona vicino con cui condividere gli anni restanti della mia vita, sicuramente il cane, gli affetti più cari della mia famiglia. Ma è una Champions, no? Ma sì, anche una Champions e magari... Una? Beh, sai, visti i nostri... Ogni 40 anni. Insomma ci sta, voglio dire, 2010, quindi ci sta, anche una Champions va bene, ma insomma comunque poi dico sempre che noi interisti non siamo figli delle vittorie, noi interisti siamo figli della fede e dell'amore per questa immensa e bellissima squadra e società. Come dice De Cuber Tempo. No, ma se arrivano le vittorie bene, ma noi quando già ci alziamo la mattina e pensiamo di aver scelto l'Inter già abbiamo vinto. E quindi a prescindere va bene così. Poi se arrivano le vittorie, meglio, eh, voglio dire, è molto meglio. Vuoi lanciare un messaggio ai giovani di oggi? Siamo praticamente in chiusura. Ai giovani? Ai giovani. Allora, perché mi stai dando del vecchio e quindi con il capello a calco, il capello bianco... No, 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 io non ho capelli. Ragazzi, non buttate via la vostra vita. Voi giovani siete bellissimi, avete un mondo in cui potete fare tanto, non buttate via la vita per delle stupidate. La vita è una sola e mi raccomando, perché voi giovani avete un grosso difetto come ce l'avevo io, come ce l'hanno tutti, che non avete ancora coscienza del pericolo. Però ci sono certe cose che si fanno e che poi vi costano l'intera vostra esistenza. Quindi mi raccomando, sappiate che una vita è una sola, tenetela stretta e divertitevi. No, adesso taglieremo tutto, naturalmente ti doppieremo con Luca Ward, faremo un po' delle cose, va bene. Andrea Bosio, bravissimo, simpaticissimo, interessante questa intervista, poi le rifaremo altre probabilmente. Insomma, comunque, Israeati termina qui. Tra poco c'è Don Roberto Potti con Testa e Cuore, classico appuntamento di Don Roberto, quindi restate con noi.